Ciao Valeria, allora innanzitutto in bocca al lupo, quest'anno il concorso la vedo particolarmente ardua, ci sono delle bellissime opere prime tra cui la tua. Ardua ma bene, meglio ardua, meglio ardua perché vuol dire che ci sono bei film, quindi questa è la cosa più importante. Senti già stai pensando alla sua seconda opera da regia? Ci sto pensando sì, però non ho ancora deciso cosa fare, mi piacerebbe poterti dire farò quello ma non lo so ancora. Non ci vuoi dire nulla? Non lo so, solo perché non lo so, ma appena lo so ve lo dirò. E invece alla recitazione hai già accettato qualche ruolo? Ho appena finito il film di Francesca Archibugi che si chiama Il nome del figlio e poi a un'uscita il film di Gabriele Salvatores che si chiama Il ragazzo invisibile. Ciao ragazzi.